test medicina 2022 news simulazioni test medicina borse di studio e agevolazioni per chi si iscrive all'università come si calcola ise universitario immatricolazioni barra verticale calcolo tasse universitarie come calcolare il voto di laurea studenti fuori sede fare l'università da fuori sede è una vera e propria palestra di vita usciti dal bozzolo sicuro di casa vostra siete proiettati in un mondo in cui siete voi ora a dovere gestire aspetti quotidiani di cui prima molto probabilmente ignoravate l'esistenza ma cosa sono le cose più importanti che si imparano da studenti fuori sede disney pixar lo ha chiesto a 1600 studenti dei college americani in occasione del lancio del film monsters university in blu ray e le risposte non hanno niente a che fare con le lezioni e i professori focus fuori sede i principali motivi di litigio fra coinquilini e le possibili soluzioni tecniche di memoria e lettura veloce rivoluziona facilmente il tuo metodo di studio impara a ricordare ogni cosa in metà tempo usando tecniche di apprendimento rapido memoria e lettura veloce da 8 euro e 90 centesimi vedi l'offerta lezioni di vita università siete curiosi di sapere quali sono le 10 cose più importanti che si imparano da studente fuori sede all'università ecco la top 10 riportata dal daily mail online 1 pianificare e stabilire priorità 2 vivere con gli altri 3 fare una spesa che basti per una settimana 4 pagare i conti e le bollette 5 studiare in modo indipendente 6 gestire il denaro 7 farsi nuovi amici 8 come muoversi 9 cercare casa appartamento 10 socializzare con diversi tipi di persone metodo universitario metodo di studio tecniche per appunti perfetti lettura veloce tecniche di memoria costruzione di un metodo universitario di successo punto 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 stop alla procrastinazione da 5 euro e 90 centesimi vedi l'offerta cosa si impara all'università ecco quindi quali sono le 10 cose che si imparano realmente grazie alla vita universitaria andando avanti nella lista comunque troviamo al tredicesimo posto apprezzare casa insomma vivere da fuori sede in fondo in fondo insegna anche a rivalutare un po l'operato di mamme e papà